Ciao e benvenuti a tutti. 1, Ultima Stella 87. Teen Titans è una serie televisiva del 2003, è la sua sigla è bellissima. TG con 24 è il canale televisivo di Mediaset dedicato alle notizie, nato a novembre 2011. Se HGTV cambiasse il suo logo? Forse, sarebbe perfetto, ma non si sa. Easy Baby, nato l'8 novembre 2010 e chiuso il 2 luglio 2015, è stata una rete televisiva italiana dedicato ai programmi per bambini. Se Lady Channel restava aperto nel 2013? Sarebbe perfetto, ma niente. Hanno ucciso l'uomo Ragno Channel, Parco Giochi Channel, Disney DVD Channel, Rai Ferro, Sky Milavo, Mediaset Peperoncino, e Discovery Peperoni, no. 2, Esther. Se Rai 2 trasmettesse Studio Aperto, e Italia 1 con TGR? No, perché la Rai Mediaset non le faranno mai. La sigla di adesso di TG3 fa ancora schifo. Canale, spagnolo, Discovery Campane Re e Televendita Channel, no. 3, AVN. Prima di tutto la sigla di TG3 di adesso fa schifo. E poi la sigla sembra fatta da PowerPoint e Windows Movie Maker. Se Boeing, Cartonito, Rai Yo Yo, Boeing Plus, e Super trasmettono il collegio, Rai Yo Yo con i fatti vostri, la 7D con BBC News e France 24, Frisbee con Studio Aperto, e Boeing Cartonito con le Televendite? No. Signore o signori. Tutti e due. Corea del Sud o Corea del Nord. Corea del Sud. Rete 4 o Italia 1. Tutti e due. 4, Christian. I tanti orari di trasmissione di Rai e Mediaset vanno bene così com'è. 5, Daniele. Se Realtime cambiasse il suo logo. Forse, sarebbe perfetto, ma non si sa. E sei, Carlo. È tutto ok. Ed è tutto. Ciao a tutti e alla prossima.